good morning sì qui sono praticamente il nove e mezza e come dico in questi casi certo non una mattina prestissimo la mattinata inoltrata comunque mattina mister master maestro o semplicemente semplicemente David Lynch ieri tra l'altro ho dimenticato di dire questa frase ma non so perché comunque credo sia stata l'unica volta vabbè sempre la prima volta it's mei 23 2022 and it's a Monday here in Naples clear middle morning in this moment very still right now 75 no 77 Fahrenheit around 25 celsius and this means that it's that day really 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 soft like in this this is the spirit and also because it seems more summer climate and spring climate but perché stiamo andando verso giugno questo è anche normale as a ricardo dei video tools I think devo caricare ancora quello di un altro ieri e qui e poi quello di ieri scala domani diciamo quindi oggi non penso che lo faccio però comunque ci sono questi ma nel caso in generale comunque siete interessati occhio sono separati da questo come sempre anyway I see and the full just see from the window non so se si vede bene I think that is after noon temperature of the sicuro si potrebbe mantenere sullo stesso cioè si mantiene sullo stesso livello non so però se scende o sale ovviamente insieme a Madimaki su questo vedremo but the really important thing but in a negative point is that in my opinion we aren't going to be enjoying those beautiful blue skies and golden sunshine cioè io vedo anche che potrebbe essere più nuvoloso ma vedremo comunque in questo momento mi sento di dire che è così però speriamo sempre che escano vedremo vorrebbe anche essere vedremo comunque aggiornerò poi nella le porte di domani comunque ci possiamo lamentare come sapete negli ultimi giorni ci abbiamo avuto sette giorni fino a ieri praticamente con dos beautiful blue skies and golden sunshine quindi comunque ci sto per cui di sede di se soffri un dimentico il wind di orange red blu green water curtain and it's green roller shooter behind the me on the top not visible infatti in the shot and finally from a mythical keyboard di Amadi GX 640 IPG 625 eva great day in all the people follow protegeando dei riporsi un saluto davvero a tutti dorso io puio le great breakfast io la farò tra poco mi sono pronta soprattutto spero vi possiate consolare le vostre parti se il tempo dovesse essere brutto certo qui non è proprio brutto però comunque lo è sì I'll see you in video talks or tomorrow